Salve a tutti ragazzi faremo un gioco oggi che si chiama Fai come me ho già fatto tip magic però sinceramente mi gioco un po' male però adesso lo facciamo meglio allora abbiamo due mazzi fai scol rosso e blu visto che ho figli non matto lo spettitore rosso a caso eh la scelta è a caso faccio completamente normale lo spettitore e lo spettitore e lo spettitore fatto blu lo spettitore ok let's go spettitore e e fari come me devi mettere ok e e e e e e e Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì.